Uomini e donne piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, disceso dal cielo per volontà di Dio nella pienezza dei tempi, disse queste parole. In verità, in verità io vi dico, chi crede ha vita eterna. Dunque l'uomo per avere la vita eterna deve credere. Credere in chi? Deve credere nel Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Cosa significa che deve credere in Lui? Significa che deve credere che Lui è il Cristo che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo, infatti, è l'Evangelo di Cristo, credendo nel quale l'uomo ottiene la salvezza dai suoi propri peccati. Infatti, l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente del giudeo prima e poi del greco, poiché è in esso la giustizia di Dio, rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Ecco dunque in cosa dovete credere per ottenere la vita eterna. Dunque qualcuno dirà, ma allora la vita eterna non me la posso guadagnare? No, non te la puoi guadagnare come non te la puoi meritare, perché la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù. Questo dono, appunto, Dio lo dà a coloro che credono nell'Evangelo del figliolo di Dio. Ecco perché Giovanni, che era uno dei dodici apostoli, quando scrisse la sua prima epistola, disse queste parole. Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del figliolo di Dio. Dio scrisse a dei credenti e scrivendo loro queste parole assicurò loro che essi avevano la vita eterna. Perché avevano la vita eterna? Perché essi avevano il figliolo. E la scrittura dice che chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Già, proprio così, perché la vita è nel figliolo di Dio. E dunque quello che vi esorto a fare è ravedervi e credere nell'Evangelo di Cristo Gesù, affinché otteniate la vita eterna e quindi affinché scampiate al fuoco dell'inferno. Dove siete diretti? Perché siete diretti all'inferno. La via sulla quale state camminando, ve lo dico con ogni franchezza, è la via della perdizione. La via che mena in perdizione. Cosa significa? È una via che appunto mena coloro che la calcano in un luogo di tormento, questo dopo la morte, in un luogo di tormento che si chiama Hades, dove arde il fuoco e dove le anime sono tormentate in mezzo al fuoco. Perché vanno là? Perché appunto queste persone sono morte nei loro peccati. Quindi senza il figlio di Dio, senza la vita eterna. E dunque essendo morti nei loro peccati, appunto coloro che sono sulla via della perdizione, poi se ne vanno proprio in questo luogo di tormento. Ed è un luogo di tormento reale. Molti non credono nell'esistenza dell'inferno, ma l'inferno esiste. È un luogo orribile. Un luogo veramente dove c'è il tormento. E quindi credendo nell'Evangelo otterrete la vita eterna. Ne avrete la certezza quindi di andare con il Signore nel cielo, nella gloria, in paradiso. Perché appunto i credenti, i credenti in Cristo Gesù, quando muoiono, muoiono nel Signore. E quindi sono beati perché si dipartono dal corpo e vanno ad abitare con il Signore e si riposano dalle loro fatiche. Quanto è differente dunque la sorte che aspetta coloro che credono nell'Evangelo da quella che invece aspetta quelli che non credono nell'Evangelo. E già perché chi non avrà creduto sarà condannato. Ve l'ho detto. Chi è sulla via della perdizione è destinato ad andare in perdizione. E dunque non credendo nell'Evangelo l'uomo va in perdizione. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura. E la Sacra Scrittura è la parola di Dio. Non sbaglia. Non inganna nessuno. Non lusinga nessuno. La Sacra Scrittura è la parola di Dio. La parola di Dio è verità. Ma sappiate anche che chi crede nell'Evangelo non ottiene solo la vita eterna. ottiene anche la salvezza dei suoi peccati. Perché? Perché appunto l'uomo è un peccatore, schiavo del peccato. E credendo nell'Evangelo viene affrancato dal peccato. Come anche ottiene la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Ricevendo questa giustizia egli viene costituito giusto. Quindi passa dall'essere un peccatore, passa a essere un giusto. Come è scritto appunto, il giusto vivrà per fede. Ed anche riceve la remissione dei peccati. Perché di lui attestano, cioè di Cristo Gesù attestano tutti i profeti. Che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Vedete dunque, credendo nell'Evangelo, quante cose l'uomo ottiene da Dio gratuitamente. Sì, perché è tutto per grazia. Non si ottiene nulla per meriti. Non si possono comprare queste cose. Perché queste cose appunto vengono elargite da Dio nella sua grande misericordia a coloro che credono nell'Evangelo. Quindi, ravvedetevi, credete nell'Evangelo. Perché è scritto che chi crede ha vita eterna. Sappiate dunque, la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù. Per ottenerlo dovete ravvedervi e credere nell'Evangelo. Altrimenti non vedrete la vita. L'ira di Dio resterà sopra di voi e quando morirete, ve lo ripeto per l'ennesima volta, vi dipartirete dal corpo e ve ne andrete all'inferno. Perché è là che meritate di andare. Ma ricordatevi del grande amore di Dio. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. E già per questo Gesù è venuto nel mondo. Per morire e risuscitare. Per morire per i nostri peccati e risuscitare. A cagione della nostra giustificazione. Questa è stata la manifestazione dell'amore, del grande amore di Dio verso gli uomini. E dunque ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Il Signore è buono. Il Signore è misericordioso. Pronto a perdonare coloro che si ravvedono, che si convertono dalle loro vie malvagie e credono nell'Evangelo del suo figliolo Gesù Cristo. Quindi ravvedetevi e credete nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, il figlio di Dio. E il Signore vi darà la vita eterna. Perché, ve lo ripeto, la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù. Chi ha orecchi da udire, onda.